3 tecniche speciali di allenamento anzitutto cosa si tende per tecniche di allenamento? è praticamente una metodologia che viene applicata alle serie, alle ripetizioni per andare a ottimizzare diversi stimoli sulla propria corporatura qual è la finalità di tutto ciò? andare a colpire con diverse strategie il nostro corpo al fine di migliorare l'estetica, la prestazione e in generale tutto l'allenamento allora quali sono queste 3 tecniche molto efficaci? da una parte troviamo quella dello stripping che significa semplicemente prendere un esercizio fare un tot di ripetizioni e poi arrivare al cedimento di quella ripetizione quindi essere in possibilità di farla un'altra scalare il peso di circa il 15-20% e poi di nuovo andare a cedimento per lo stesso range di ripetizioni la seconda tecnica di cui voglio parlarvi è quella delle super set cosa significa? accoppiare due esercizi che possono essere per lo stesso gruppo muscolare o per gruppi muscolari separati e farli senza riposo dobbiamo fare la pausa solo al termine degli esercizi insieme terzo parliamo dei rest pose significa semplicemente che dobbiamo raggiungere un determinato livello di serie di ripetizioni in un blocco di tempo che è intervallato tra una serie e l'altra con un massimo di 30 secondi ovviamente sono tecniche avanzate lo dice la parola stessa non adatti ai principianti vanno contestualizzati nel modo giusto all'interno di una programmazione ma sono molto efficaci per rendere ancora più stimolante sia mentalmente sia fisicamente il tuo allenamento grazie a tutti grazie a tutti